Musica Ben ritrovati da Alessio Grosso, quindi sta tornando all'offensiva, l'anticiclone africano Rimarrà con noi per diversi giorni portando un caldo a tratti davvero fastidioso e talora insopportabile Con punte di 39-40 gradi sull'insieme del paese e con valori più alti probabilmente sull'Emilia Romagna, sulla Toscana e sul Lazio Parleremo oggi diffusamente visto che è l'ultima puntata della stagione di Meteo Live Weekend del tempo di luglio e del tempo di agosto Quindi non perdetevi l'appuntamento di oggi con questa meravigliosa puntata di Meteo Live Weekend Ebbene partiamo con il satellite che ci mostra subito l'ultimo tentativo dell'Atlantico di inserirsi nel cuore del Mediterraneo Ma l'alta pressione la vediamo qui con la lettera A, sta facendo buona guardia l'anticiclone africano E quindi questa perturbazione, questo debole impulso temporalesco verrà sfrangiato in due Una parte sfila verso il centro Europa, un'altra parte qui va a morire nel cuore del Mediterraneo Risultato qualche temporale residuo sparuto in particolare sul Piemonte nelle prossime ore sulle Alpi E poi tanta alta pressione Stamane erano presenti per la verità sui cieli della Lombardia ma un po' su tutto il nord Italia Gli Alto Cumulus Castellanus che sono proprio il segnale di una instabilità atmosferica in quota Questi poi generalmente nel pomeriggio sono seguiti da brevi temporali in particolare vicino alle montagne I temporali potrebbero risultare importanti questa sera ma solo sul Piemonte Probabilmente sull'estremo nord della Lombardia in particolare sul Varesotto Ma poi si dissolveranno nel corso della notte Eccola qua invece l'aria fresca che punta in pieno atlantico in particolare verso le Canarie E di sponda risale questa lingua calda bollente sul nostro paese L'acqua e il cerchiolino bianco sta a significare proprio Roma quindi l'Italia E come vedete questa lingua calda si protenderà sull'Italia per diversi giorni E rimarrà stazionaria almeno fino a metà della prossima settimana Ma i modelli fanno intendere che una rinfrescata non ci sarà almeno sino a sabato 7 luglio Quindi dovremo convivere con la calura Questo è l'indice del disagio quindi la combinazione tra il caldo e la concentrazione di umidità Il tassio di umidità che sarà elevato in particolare lo vedete sull'Emilia Romagna, la bassa Valpadana e il basso Veneto Su quelle zone quindi oltre al caldo si dovrà fare i conti con molta AFA Comunque è un caldo fastidioso un po' su tutte le regioni Guardiamo la domenica giusto per capire che temperature potranno raggiungersi Questi valori che vedete sono addirittura sottostimati Nel senso che potrebbero esserci anche punte superiori a quelle che vedete qui In particolare potrebbero raggiungersi valori di 37 gradi nella giornata di domenica come punta massima Mentre tra lunedì e martedì addirittura 38-39 gradi Quindi non escludiamo valori vicini ai 40 gradi Questo invece è quello che potrebbe succedere alla fine della prossima settimana Cioè sabato 7 luglio Ecco la frescura che avanza dal nord Europa Pensate che in Inghilterra nel Regno Unito sta facendo ancora un tempo quasi autunnale Questa frescura potrebbe raggiungerci finalmente Ma anche a suon di temporali Quindi lo scotto da pagare sarà quello Proprio sabato 7 Quindi con una rinfrescata generale e temporale in particolare al nord Vediamo allora nella curiosità odierna Come potrà evolvere la stagione estiva Il mese di luglio e il mese di agosto Il mese di luglio potrebbe essere riassunto da questa immagine Quindi nonostante qualche temporale rinfrescante Direi episodi di breve durata Il tempo che dovremmo aspettarci a luglio è questo Tempo stupendo Con anche nuove ondate di caldo In particolare la stabilità ci sarà di più al centro-sud E i temporali saranno più frequenti al nord Naturalmente dove? Sulle Alpi dove incideranno maggiormente Ma ripeto un luglio caldo Per quanto riguarda agosto invece potrebbero esserci condizioni maggiormente favorevoli a temporali E a rinfrescate in particolare al nord ma anche lungo tutta la dorsale appenninica Queste carte che adesso vi mostreremo Sono state diffuse dal centro americano, dal NOAA Che è l'ente governativo americano E ci mostrano per il mese di luglio e agosto un andamento un po' particolare Il luglio sarà particolarmente rovente con anche poche precipitazioni Quindi abbiamo messo quei cerchiolini Poche piogge e molto caldo Con temperature superiori alla media dove c'è il rosso Mentre per quanto riguarda l'agosto ecco invece avremo maggiore rischio di precipitazioni Anche temperature più basse sull'Italia Quindi probabilmente anche un leggero sottomedia Queste sono proiezioni Guardate bene, aggiornatevi sempre sul sito www.meteolive.it Per avere tutte le informazioni aggiuntive nelle prossime settimane Apriamo dunque con il venerdì, venerdì nazionale Per raccontare che weekend di fuoco sarà sull'Italia Attenzione perché in questi casi c'è anche il rischio di incendi In qualche caso dolosi Quindi mi raccomando vigilate anche su questo Il venerdì sarà assolutamente soleggiato Soltanto sulle Alpi ritroveremo qualche annuvolamento Con rischio di brevi rovesci o temporali pomeridiani Ma sempre più isolati e sempre meno rinfrescanti Temperature che cominciano a salire un po' su tutto il paese In particolare nelle zone interne Vediamo il sabato a livello nazionale Ci riproporrà ancora condizioni assolutamente soleggiate Serene senza una nube al centro e al sud Salendo verso le Alpi un po' di annuvolamenti pomeridiani Ma con scarso rischio di rovesci o temporali Temperature che saliranno ulteriormente con punte Abbiamo già visto ma lo ribadiamo Ancora vicino a 35 gradi per il sabato Il sabato in Lombardia sarà splendido Dalle Alpi fino alla pianura Con ancora una sensazione di affa e disagio In particolare tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio Poi un po' di brezza potrebbe rendere più respirabile l'aria nel tardo pomeriggio Vediamo invece la domenica a livello nazionale Arrivano un po' di nubi medio-alte sul settentrione Segnale di un ulteriore afflusso di aria calda I veli che ci saranno nel cielo segnaleranno proprio l'aria calda in arrivo Tempo assolutamente buono al centro e al sud Sulle isole un po' di brezze Ma all'interno temperature ripeto anche superiori ai 35 gradi La punta già segnalata di 37 gradi Vediamo la Lombardia Quelle nuvole alte che giungono da ovest verso est Assolutamente innocue Disturberanno, atteneranno un po' il soleggiamento Potrebbe essere anche un'occasione per un po' di sollievo Però globalmente la giornata sarà molto molto calda E essendo domenica vi consigliamo naturalmente piscina, parchi O che è più fortunato anche una bella gita al lago o ai monti Ebbene adesso parleremo del tempo della prossima settimana Prossima settimana che si aprirà ancora all'insegna dell'anticiclone africano Si parte con tutta la prima fase votata al Gran Sole al centro-sud Un po' di instabilità la vedete sul settentrione In particolare lungo le Alpi e sulla fascia pedemontana Rischio di brevi e isolati temporali In qualche caso potrebbero essere violenti perché cominciano i contrasti Tra infiltrazioni di aria più fresca che arriva dai valichi alpini E l'aria stagnante e bollente presente in Valpadana Verso la fine della settimana, ecco verso il 7-8 Ecco lì avremo probabilmente la perturbazione spazza-Africa Spazza-caldo con temporali e anche violenti Netto calo delle temperature che torneranno su valori decisamente più sopportabili E più gradevoli Ecco appunto il quadro termico che mostra all'inizio della settimana Ancora caliente e ancora molto caldo In particolare sulle regioni meridionali E poi il deciso calo proprio per la fine della settimana Con temperature anche di 10-15 gradi in meno Rispetto ai valori che si riscontreranno nei prossimi giorni Bene, con questo io vi saluto Vi saluto con una bellissima immagine delle Dolomiti Vi invito a riscoprire le nostre Alpi È sempre piacevole trascorrere giornate in montagna Specie quando fa molto caldo E l'ultima puntata di Meteorai Weekend Ci ritroveremo alla fine di agosto, giovedì 30 agosto Quindi non perdete la prima puntata della nuova stagione di Meteorai Weekend Il mio saluto a tutti voi In particolare un ringraziamento a Ruggero Muttarini Mimmo Zingaro, Luca Azzimonti Grazie e buona estate a tutti Grazie a tutti